In provincia di Pavia l'agricoltura è secondo alcuni minacciata da questa infrastruttura che è l'autostrada Broni-Mortara. Voi come comitati come vi ponete? Proseguite la vostra battaglia? Proseguiamo la nostra battaglia che è sempre più feroce, tra virgolette. Sono felice di essere qui presente nei stati generali dove sono riuscita il vice ministro a lasciare il nostro documento, riso amaro che abbiamo già mandato al ministero. Sono le nostre osservazioni sull'inquinamento delle falde acquifere, dell'aria, se si farà questa autostrada che è inutile e dannosa. E l'altro documento che siamo orgogliosissimi sono le 45 firme che sono in crescita dei sindaci di tutta la provincia più tutte le associazioni per dire che uno sviluppo sostenibile, come diceva prima il vice ministro, deve essere a tutela dell'ambiente, non per ucciderlo con un'autostrada inutile.